Ciao ragazzi, penso abbiate già suonato tutti, penso siate lì ad aspettare i risultati per sapere chi ha vinto. Quello che posso dirvi io è che tutti vincono quando si suona con l'energia e la voglia di farlo. Quindi vi abbraccio a tutti, un abbraccio fortissimo dai tre leghi ragazzi morti, da me in particolare, e niente, ci vediamo sui palchi. Ciao!